Ferito con arma da fuoco dal suo ex datore di lavoro ma con molta probabilità è stato un incidente. Saranno comunque gli inquirenti a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto in questo casolare che si trova in località Campigliano nel comune di Civitella in Val di Chiana, Arezzo. Qui risiede un 42enne aretino titolare di una ditta edile. Alle 7.20 l'uomo ha fatto partire un colpo dal suo fucile da caccia detenuto regolarmente che ha raggiunto alla gamba sinistra un sessantenne suo ex operaio con il quale pare stesse per partire per una battuta di caccia. Il ferito è stato colpito a Tibia e Perone e avrebbe perso molto sangue. Con l'ele soccorso Pegaso è stato trasportato a Firenze all'ospedale di Careggi. Non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte dei militari della stazione di Civitella e del nucleo operativo e radiomobili di Arezzo che hanno anche sequestrato il fucile. L'imprenditore, denunciato in passato per minacce, avrebbe dichiarato che il colpo è partito accidentalmente.